Oggi esistono più dispositivi connessi online che persone. I dispositivi che hai in tasca, gli oggetti che hai in casa, l'auto che guidi. Tutto può trasmettere informazioni sulla tua vita. Questo ecosistema è conosciuto come Internet of Things. Bello, ma ricorda che è una strada a doppio senso. Se tu sei connesso a tutto, tutto è connesso a te. Meglio disporre di un sistema collaudato per rimanere al sicuro. Scopri di più sulla sicurezza dell'Internet of Things, così potrai puntare in alto senza rischi.